Per noi era una partita di grande importanza perché doveva darci delle conferme soprattutto a livello mentale, questo è un campo difficile, Siena è una squadra, come avevo dichiarato prima in conferenza, prima della partita, una squadra difficile da affrontare perché è una squadra tosta, è una squadra dura e quindi oggi era la partita dove le nostre attitudini mentali a reggere certi tipi di partita veniva messa alla prova, siamo stati bravi perché l'abbiamo saputo affrontare sin dall'inizio e poi nel corso della partita siamo cresciuti a livello di intensità e questa cosa è riuscita a pareggiare quella di Siena e ci ha permesso, grazie anche a delle percentuali in attacco importanti, di prendere un buon vantaggio e di poi portarlo avanti fino alla fine.